La guardia, la passi qui? E la fermata io la farei qua. Vai, vai Camille! Spalle e giro. Che sei mamma? Non me lo potevi dire 10? Guarda che adesso devo andare che ho uno di là nel letto, sto andando da mamma e papà, ti prendi una pausina, ci pensi, il sorriso che avrai dopo nella caffettiera. Giulia, che posso guardare? Murtaggi Bianca, ma che stai scegliere? Lo sai che ore sono? Che è successo? Vabbè, sì ho capito, sono sempre la tua controllora. Scusi, si menano a pigliare le motte, siamo in un intervento. Allora aspettate? Allora aspettate! Scusi, tu piccolino, mai sei scema, non ti darei un cazzo a te. Siete stupende, giriamo. Ti fai provare? Perché sei scema, non ti darei molto in principio. Comunque hai autorità nel dire. Sali. 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 In questo caso dovete farla un pochino più precisa. Per precisione intendo, al di là del tuo delle battute, proprio il sentimento. Chiamami Giovanna. Non ho una faccia da Giovanna, vero? Me lo dicono molti i miei pazienti. Non ho una faccia da Giovanna. Non ho una faccia di avere un' experiencia. Tutto uno schifo! Tutto uno schifo! Rimanete un attimo ferme così. Come sta Silvana? Eh Silvana... Silvana non sta sta bene. Oggi è l'ultimo giorno di riprese di Roma e io veramente vi ringrazio di cuore per questo film che è stato bellissimo. Non è finito, ma per molti sì. Quindi grazie. Grazie!